adesso è 40 prima era la maiala nooo questa mappa brutta brutta no in realtà no non è brutta la mappa dipende dipende come gioco poteva andarci peggio in fattoria era invisibile praticamente eccola è da me da me oddio che fa ma il ma bohaiola come ti permette a preferire qualcosa al culo eh ragazzi le tette sono le tette dai dami lì bravo soprattutto sono belle tette rega con questa mappa è piena di pallet non li tirate perché è vinta figherato è abbastanza incazzato ma ti ha perso ti aveva perso senza saltare la finestra veloce allo fatto apposta c'è inganno si non ci credo se l'ha messo la rega no eh lo tiro lo tiro cazzata gialla oh no sbagliata per un millino ragazzi gold palette è andato ai forri ma non volevo andare giù beh finché sei ferito non è un problema usare il palco sta grande stronza vuole me che ha fatto vuole sempre me ah ok incazzatissimo oddio è persa proprio vuole il mio culo non sei manco jane hai di niente allora di certo ha inganno e forza brutale ma doma cosa ho fatto però poi mi incastro nell'albero e ho fatto una cosa bella grazie ma malino sì proprio io te la do guarda che sei inseguito ferito e dai scambia bar su un po' di peppe un po' di peppe li dissocio grazie oddio quanto è bella stanina ma quanto è veloce eh c'ha qualcosa c'ha io se non faccio in tempo mi... tanto muoio con la trappa la sicuro eh via 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 eh mi sta facendo sprecare un botto di palle nooo Ale mannaggia a teee Ale mannaggia la capa tua eh che vuoi i wallet stanno di qua mannaggia la pupazzola eh niente quello di nuovo me ragazzi li fate i generatori che la sto trattenendo sì sono più della metà bene ho dovuto buttare una marea di pallet eh ma se non... se sta maianaggia la... eh niente raga eh niente muoio con la trappola no ma che muori che sta nemmeno a metà mi stai stando con la fortuna che c'ho io guarda adesso faccio questa quanto ne posso controllare? 2 su 4 massimo ma quando mai ce la fai? comunque diceva Tarocco che in base al perk sei all'1 e 60 secondi sei al 3 e 40 quello si che diceva al 3 so curato dai mancano solo gel eh raga io ci crepo tanto eh ma non ce la farò mai ci crepo ma non ci crepi guarda che le trappole sono belle lontane eh cioè io massimo posso guardare questa e un'altra eh la trovi? ma va sai quante volte sono crepato così? forse mi ha visto se ha visto me è andato a salvare il cristiano io non posso niente morto crepato ammazzato se non è questa sono morto forse non ce la faccio nemmeno sono lentissime niente cazzatissima mi vuole a tutti i cosci la granda vabbè facciamo stare le trappole di merda eh non so se ci arrivo non penso eh invece ci arrivo noi stiamo facendo un gioco si dai che mi sta accesando da me mezz'ora questa finestra 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 la so raga sta durando da un'eternità sto c'è il solete fin- oh nice ma io mo ci muo- aspetta c'ho un'altro pallet apro il 99 sto c'ha il nod eh c'ha pure forza brutale ecco la promessa è la promessa però occhio ti fa il giro eh no mi hai fatto perdere stavo andando benissimo mi hai dato un solo consiglio e sono stato preso eh no non devi ascoltare gli altri e allora che cazzo me lo dici a fare te l'ho detto in preventivo se mi facevate un po' di block mi liberavo eh sì eh sì ho inteso dall'altro lato raga sono durato un'ora un consiglio suo e sono morto rip best consigli dice fabbri best consigli da uno che è morto con la trappola in testa eh tutto sta campra spero non mi stia farmando sto tizio ok non so cosa sia successo oltre uscita dall'altra parte è aperta però è al 99 ok peccato che io non sto alla tua uscita vabbè se viene qua mi faccio grabbare il cg per 3 oh povero perché è aperto eh sta venendo qua non ci l'ha preso dai lì mi ha salvato mi dispiace che ci muoia io c'ho una sforza una gole trappola e del maiale raga è una volta impressionante minchia la cosa che vuole io ci voglio rischiare perché lui ha rischiato per me eh vado io ci ah niente oddio non ci credo ma come l'ha messata oh madonna mia cosa ho visto vabbè sacco però dai sacco volevo levarla invece ho capito ma non puoi fare queste cose questo è peggio del pallet tirato uno da prima che oh mi stavo liberando stavendo da voi non lo so adesso non ci provo oddio che culo ti sei liberato da solo madonna che culo pazzesco E poi c'è meglio che muoio con le trappole in testa No, si è fatto prendere quello Eh, ci muore Eh, sto prendendo la mano Rip No, comunque è stata una bella partita da parte mia Ho fatto un chase che è durato un'ora Un po' Grazie per avermi portato il killer Eh, l'unica volta che ho seguito le... Le direttive di Trinity mi ha preso No, dico grazie che mi ha portato il killer Eh, non si è più staccato Si è accollato a me Non c'è di che Ho fatto morire con la trappola in testa Eh, dovevo morirci Cioè, i pallet erano nella tua zona Guarda, guarda Ma che fa? Che sta fa? Non lo trova Oh, madonna Oh, madonna, cosa sto vedendo? Ma non ha recuperato questo No, vabbè, oltre se c'è Ma è ritardato Lo alzavo se recuperava Vabbè, gg Vabbè, gg Vabbè, gg